Eventi per la cittadinanza e per le attività commerciali, ma anche per attrarre flussi turistici in città. Più pulizia delle ville comunale e aree giochi per i bambini e una più ampia promozione del territorio, soprattutto durante la stagione estiva. Sono queste le aspettative e le richieste dei cittadini di Torre del Greco, intervistati dalle telecamere di TV City, soprattutto per quanti trascorreranno le vacanze estive in città. Parlando anche della prossima estate che sta per arrivare, cosa si aspetta qui a Torre del Greco? Eventi o altre cose di questo genere? Qualche evento sarebbe ben visto e ben voluto sia da parte di noi cittadini e sia dalle attività commerciali che stanno sul territorio, perché un evento porta un flusso di persone, si presuppone questo, però eventi, se facciamo eventi, facciamoli bene e fatti con criterio. Noi siamo una bella città, abbiamo il paradiso, come si suol dire, rispetto a altre zone che hanno solo la nebbia, dicendolo in breve. Noi siamo al centro, siamo vicini a Sorrento, siamo vicini a Pompè, siamo vicini a Ercolano, noi dobbiamo sfruttare bene il nostro territorio. E se un'amministrazione comunale si mette in testa di fare davvero, sia iniziando proprio dagli uffici preposti, di fare tutto per bene, si può soltanto migliorare, in maniera diversa, non possiamo che peggiorare. È il nostro territorio, è la nostra città, va soltanto indietro. Con l'estate ormai alle porte, che cosa vorrebbe si organizzasse qui a Torre del Greco come eventi o come altre cose di questo genere? Qualche parco giochi tenuto un poco meglio, come pure la villa comunale, un poco più di attenzione per la pulizia. Dipende anche da noi cittadini, però vorrei che almeno il comune e gli enti preposti se ne prendessero cura e facessero rispettare delle regole. Cosa ti aspetti che si organizzi qui a Torre del Greco in città, anche per attirare turisti? Forse magari più pubblicità per la nostra città, perché comunque è rimasta in uno stato molto retrogato e quindi bisognerebbe fare un po' più di pubblicità, quello sicuramente. C'è qualche cosa che vorrebbe si organizzasse qui a Torre del Greco? Ma forse perché io ho un'età certa, più che una certa età, quindi un po' le feste non mi interessano forse più di tanto. Ecco, magari organizzare qualcosa per attirare anche turisti? Eh ma sarebbe ovvio, sarebbe come dire bello vedere qualche piazza qui a Torre che si animasse per qualche nome così importante. Però io ho un ricordo anche qui triste. Piazza Plebiscita, un po' Paripa, per capirci, qualche anno fa venne Gragnaniello. Io stavo lì con mia moglie e ma io notai che c'erano 4, 5, 10, 15 persone. Questo perché la cosa non fu pubblicizzata a dovere. Allora chiamare qualche nome eventualmente, laddove le casse comunali lo permettono, ma pubblicizzare anche.